Eccoci qui sabato a notte targato convento di Lonato di Brescia Siamo ospiti di lei, questa bellissima cucciolotta con gli occhiali bianchi Che forse ha deciso di sposarti Allora, eccolo le bicchiere Allora adesso facciamo un bel brindisi Prima facciamo una piccola domandina E se rispondi bene ti faccio bere questo bellissimo bicchiere bianco Fammi assaggiare prima com'è Buono, buono Il vino bianco del convento è molto buono Allora il tuo nome? Susanna Bevi un goccio adesso, vai in diretta Susanna ti sposi? Sì Sei sicura? Sì Con chi? Con Gianni Bevi un altro bicchiere, un altro goccio con Gianni Ok, da dove vieni? Da Mantua Bicchiere bevi? Da Mantua Ok, quando è che ti sposi? Il primo settembre Vai bevi Da qua il primo settembre ne bevi? Ok, dimmi tre motivi perché hai deciso di sposarlo E ogni motivo di bere un goccio, vai Perché lo ama? E il primo? Secondo? Perché abbiamo due magnifiche figlie Ok E il terzo? E perché era ora? Vai, si beve? Tutto, tutto, tutto Ok Ora facciamo vedere in diretta Che il bicchiere è voto e tutte le domande Allora il tuo futuro marito si chiama? Gianni Allora, in diretta per Gianni E le tue due bellissime figlie Mi dai un bel bacio qua sulla guancia Con sentimento Con sentimento Mamma Guardate questa bellissima cucciolota Leopardata Che viene da Mantua Allora io ti auguro Un bellissimo matrimonio Grazie Siete già una bellissima famiglia sicuramente perché Avete già due bellissime bambine, giusto? Che si chiamano? Si può dire? Alessandra e Gloria Luce Allora, adesso noi salutiamo Alessandra e Gloria Luce Gloria e Luce ha una figlia con due nomi Yeah Allora, salutiamo Gloria Luce e Alessandra Ciao Gloria Luce, Gloria Luce La 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 Gloria Luce, Gloria Luce Gloria Luce, Gloria Luce